Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Il corpo di polizia penitenziaria ha celebrato ieri il suo 199esimo annuale. L'evento si è svolto presso la casa circondariale di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. È stato celebrato ieri il 199esimo annuale del corpo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Contrada Balate a Gela. Una cerimonia sobria ed elegante che ha registrato la presenza delle massime autorità locali, civili e militari. 199 anni di storia, di valori, di orgoglio, di onore, di servizio al servizio della nazione. Ed è straordinario, straordinario perché gli uomini continuano ad avere passione, continuano ad avere motivazione, continuano a trasformarsi perché seguono l'evoluzione che la società italiana nel corso del tempo ha avuto fino ad oggi. Siamo molto contenti, siamo molto felici di dedicare questa giornata a tutti i poliziotti penitenziari, alle famiglie che condividono onori, gioie, dolori, tanti dolori. Un ricordo va ai pensionati e ai caduti della polizia penitenziaria nell'adempimento del dovere. Oggi siamo qua ad esaltare il blu delle nostre divise. Lei che cosa si augura per questo corpo nel giorno del compleanno, il 199esimo? Lunga vita. Lunga vita al servizio del Paese. Lunga vita nella contribuzione alla sicurezza delle città in cui le istituzioni penitenziarie insistono. E lunga vita anche per quel concetto importante di condivisione. È una tradizione storica molto importante al servizio delle strutture, in particolare della Casa Circondariale di Gela, che è molto addato a questo territorio. Molto addato e molto conta di dare. È un prezioso contributo. In realtà tutto si dà e molto si riceve. La partecipazione anche alla festa è significativa. Ci sentiamo parte come grande condominio della città. Vorremmo essere anche un condominio produttivo. Sindaco, la Casa Circondariale di Gela ormai è attiva da diversi anni. Una struttura di cui la città aveva veramente molto bisogno. I risultati sono arrivati, sono davvero straordinari. Questa è stata considerata una delle strutture più virtuose d'Italia. Avere questa struttura nel nostro territorio, dove fra le altre cose ospita persone anche del territorio, consente di poter avere una maggiore vicinanza agli affetti, mentre le persone scontano la pena nei confronti della collettività. Quindi è una struttura importante, una struttura di rieducazione importante, una struttura che devo dire si è fatta valere, e sono sicuro che si continuerà a fare valere a livello sia regionale ma anche a livello nazionale. Nel corso della cerimonia di ieri sono stati conferiti quattro apprezzamenti ad altrettanti agenti di polizia penitenziaria che si sono distinti per la loro condotta esemplare, anche liberi dal servizio. Quattro note di compiacimento che esprimono il riconoscimento dello Stato per uomini che rappresentano un chiaro esempio del dovere, così come riportato nelle motivazioni del conferimento. Sentiamo. Vengono assegnati quattro apprezzamenti, viene tenuto in considerazione la condotta e l'amore che avete per il lavoro e l'attaccamento alla divisa. A chi dedica questo riconoscimento e un commento, una battuta su quella che è stata la sua vita in divisa? Dedico questo riconoscimento a mio padre che mi ha trasmesso tanti valori che adesso non c'è più. Quei valori che ho trovato nel corpo di polizia penitenziaria, il senso della giustizia, del trattamento, della sicurezza. Sono fiero di indossare questa divisa e la sento proprio mia. Io ho scelto questo ruolo perché in famiglia c'era un altro, mio fratello che era sotto ufficiale. Mi sono appassionato, ho fatto la domanda e quindi da lì sono partito. Mi trovo fino adesso benissimo. Prima di essere qui sono stato a Catania e Piazza Lanza. Io dedico questa premiazione alla mia famiglia e ai miei cari che non ci sono più, a mio padre e a mio suocero. Ho scelto di lavorare nel corpo della polizia penitenziaria perché ho sempre creduto alla divisa e ho sempre creduto al ruolo della polizia, dei carabinieri, di tutti i corpi di polizia dello Stato. Ho lavorato immensamente, mi piace indossare questa divisa, mi trovo a Gela dopo quasi 28 anni di servizio. Io lo dedico a me stesso, dopo tanti anni di servizio, un giusto riconoscimento con l'impegno che si è avuto durante tutti questi anni. Siamo alla cronaca. La scorsa notte intorno alle 4 i gnoti hanno appiccato il fuoco alla Fiat 500 di una donna di 40 anni. Il rogo si è verificato in via Emilio Artigiani, nel rione Albani Roccella, sul posto Polizia e Vigili del Fuoco. Appena due giorni fa era stata data alle fiamme una Fiat Panda in via Ravenna, nel rione Macchitella. Si è svolta ieri a Catania la cerimonia di insediamento del sindaco metropolitano Enzo Bianco. Erano presenti 57 sindaci della città metropolitana di Catania, il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, deputati Antonio Malafarina e Mario Falcone. Tra gli astanti anche il sindaco di Piazza Armerina Filippo Miroddi, l'assessore Francesco Salinitore, rappresentanza dell'amministrazione comunale di Gela e rappresentanti del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Pro Referendum, Piazza Armerina, Liberi Consorzi Niscemi e Consulta di Niscemi. Insieme faremo una grande squadra, ha dichiarato Enzo Bianco, dopo la firma dell'insediamento. Siamo contenti che il primo atto della città metropolitana, cioè l'insediamento del sindaco metropolitano, sia stato fatto invitando i promotori ufficiali e le istituzioni di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, ha dichiarato il portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone. È un riconoscimento importante che invita alla coesione e alla partecipazione dei programmi e dei progetti della città metropolitana di Catania. Adesso la Regione faccia in fretta a riconoscere l'ingresso nell'area metropolitana di Catania ai comuni che vi hanno aderito, perché più tempo passa, più elevato diventa il danno economico che si arreca a queste tenaci e coraggiose cittadine in termini di mancata progettazione, mancati investimenti, mancato rispetto delle scelte popolari. La Giunta Municipale ha firmato il contratto decentrato integrativo del personale dipendente relativo agli anni 2014-2015. Con la firma di questi due importanti atti, ha detto il Sindaco Domenico Messinese, si chiude una lunga concertazione interna che consente di dare risposte ai dipendenti comunali che si sono visti negare dei diritti per tanti anni. L'intesa prevede le progressioni orizzontali per i dipendenti e il pagamento delle indennità accessorie. L'accordo con la delegazione trattante è la conferma di un percorso di smaterializzazione iniziato da qualche mese che inizia a dare i primi frutti. L'organizzazione dell'amministrazione passa anche da giusti rapporti, ha concluso il Sindaco di Gela, Domenico Messinese. Chiede chiarimenti al segretario generale del Comune di Gela e al comandante della Polizia Municipale, il consigliere comunale Carmelo Casano, in merito ad alcune vicende legate alla sosta a pagamento, meglio note come strisce blu. Con una nota Casano chiede che, così come leggiamo nel documento, vengano ripristinati tutti gli stalli delle strisce blu previste dal contratto in essere, considerato che attualmente l'amministrazione comunale si trova in fase di proroga e quindi non può, secondo il consigliere comunale procederà alla variazione delle prestazioni. Presentati ieri a Gela i nuovi progetti Eni, il punto della situazione lo ascoltiamo in questo servizio firmato dal nostro Franco Gallo. Vediamo. Era il novembre 2014 quando a Roma, presso la sede del Mise, il Ministero per lo Sviluppo Economico si firmava il protocollo di intesa che sanciva la fine della raffinazione del petrolio a Gela. Al suo posto veniva annunciata la riconversione dello stabilimento di Piana del Signore che avrebbe dovuto modificare senza far perdere nessun posto di lavoro, almeno così avevano detto i nostri rappresentanti politici che avevano apposto la loro firma su quel documento dalla portata sicuramente storica, la produttività del sito industriale gelese. Niente più petrolio da lavorare, niente più raffinazione e niente più devastazione del territorio con il pesante inquinamento portato da quella petrolchimica. Ma da quel lontano 6 novembre 2014 di tempo ne è passato e dalla devastazione del territorio con la fabbrica del Cana Seizampe in marcia si è passati alla devastazione economico-sociale di un'intera comunità. La chiusura dello stabilimento è infatti apportata in questi lunghissimi 18 mesi allo sconvolgimento del tessuto economico-finanziario della città. Licenziamenti, disoccupazione e drammi sociali sono stati all'ordine del giorno. L'ultimo dei quali riguarda l'operaio della SMIM Matteo Guerrei che per disperazione, visto che non percepisce la cassa integrazione da oltre 8 mesi, si è asserragliato in cima ad un pontone della sua ex ditta. Ieri finalmente dalle parole si è cominciati a passare ai fatti. La Green Rai Fanery non è più nel libro dei sogni. I vertici nazionali di Eni sono venuti a Gela a dire che è stato assegnato l'appalto alla ditta americana Forster e Wheeler per la costruzione dell'impianto di bioraffineria Green. Ci vorranno altri 12-18 mesi per poterlo vedere in funzione. Ma intanto è stato definito che a lavorare sul cantiere che costruirà il più grande impianto di Green Raffinerie d'Europa saranno soltanto maestranze locali. Una boccata d'ossigeno per la sfittica economia gelese. E poi la conferma che Eni non ha alcuna intenzione di abbandonare il sito di Gela e che il colosso energetico italiano vuole invece puntare decisamente sul polo industriale di Gela. Una speranza in un mare magnum di problemi che potrebbe diventare il volano di un nuovo sviluppo, magari stavolta meno ancorato alla sola presenza di Eni di questo martoriato territorio. E a spiegare i dettagli del nuovo rilancio industriale di Eni sul territorio gelese sono stati Salvatore Sardo, responsabile rifeining e marketing del cane a sei zampe e Luigi Ciarrocchi a capo del programma Eni di Gela. Li sentiamo ai microfoni di Franco Gallo. Nell'agosto del 2014 Matteo Renzi venne a Gela per dire che nell'arco di pochi mesi in Italia dovevano chiudere 5 raffinerie e Gela faceva parte di questo lotto. In realtà dopo due anni e mezzo ha chiuso solo Gela. Come mai? No, io questo non lo so e non riesco a commentarlo, le affermazioni del nostro Premier. Oggi Gela non ha chiuso. Oggi Gela rilancia. Come abbiamo visto che una raffineria che perde ogni anno importanti soldi, oggi in realtà si è trovato il modo di poter rilanciare questa attività. Quindi non la guardiamo con qualcosa di chiusura, guardiamolo verso un futuro. Un futuro che è sempre più green, un futuro che non ha solo la raffineria ma anche altri progetti molto importanti per il territorio. Il 6 novembre del 2014 a Roma lei c'era quando si firmò quel protocollo? Non c'ero. Vabbè, però conosci i termini di questo protocollo in maniera pedissegua, no? Ho copia in tutte le stanze della mia casa. Ecco, quello che le voglio chiedere, però non è se lo conosce bene o no il protocollo, è che allora i nostri rappresentanti locali politici che firmarono quell'accordo ci dissero in pompa magna che non si sarebbe perso un solo posto di lavoro. Siamo nel giugno del 2016 e qui c'è gente che si arrampica sui tralicci perché non ha più il lavoro. Io non voglio commentare, entrare nell'ambito delle situazioni che sono legate all'edito agli appaltatori. Noi qui abbiamo, come dicevo in precedenza, rispettato gli impegni che erano scritti su quel protocollo. Il protocollo indicava 900 risorse dell'indotto che avrebbe voluto lavorare nel 2015 e ne hanno lavorato il 1062. È chiaro che se noi guardiamo a 20 anni fa l'indotto aveva una dimensione diversa. Guardiamo, ribadisco al presente e al futuro. In questi momenti come sostegno per quelle risorse che non riescono oggi a trovare un'occupazione ci sono degli ammortizzatori sociali, dei sostegni al reddito. È chiaro, ribadisco, che qui comunque non dimentichiamo che stanno lavorando 1250 persone. Nella ottica strategica mondiale di Eni, Gela cosa rappresenta? È un punto molto importante. Un pari centro di attività, avete visto, non abbiamo parlato soltanto di attività industriale, ma abbiamo parlato anche di attività di formazione, abbiamo parlato di attività di tattiche, abbiamo progetti importanti di ricerca e collaborazione di università, per cui noi crediamo in Gela. Noi siamo convinti che questo percorso potrà portare addirittura più lavoro a Gela, perché non sarà più, come dire, un lavoro magari focalizzato solo su un'industria o solo su una tipologia di attività. Ma domani avremo un territorio diverso, con più aziende, e poi fatemi dire, no? Con aziende più moderne che rispondono di più a quelle che sono le esigenze del mondo contemporaneo. Cioè oggi avere una green refinery è ben diverso rispetto ad avere una raffineria tradizionale, anche in termini di prospettiva. Ci saranno ancora altri 18 mesi, cioè da quando entrerà in avvio la green refinery, che bisognerà tirare la cinghia e stringere denti? Io direi proprio di no, perché già oggi ci sono centinaia di lavoratori delle imprese che lavorano all'interno del sito. Altri lavoratori verranno ovviamente chiamati per lavorare nei prossimi mesi e quindi, come dire, sono convinto che non nascondo sicuramente una certa sofferenza da parte del territorio, ma tutti i progetti di cambiamento portano delle sofferenze. Però noi stiamo cercando di gestire questa trasformazione cercando di salvaguardare al massimo proprio le maestranze e proprio, come dire, tutte le attività imprenditoriali che a Gela ci sono, alcune delle quali di grandissimo valore. Conferenza stampa Eni, quasi tutto chiaro, tranne che per le bonifiche, per capire, occorrerebbe una nuova conferenza stampa. Quali organismi controllano lo stato delle cose? Il sindaco di Gela e i sindaci dei paesi vicini sono stati interpellati? Tutto a posto sono le dichiarazioni affidate alla stampa con una nota da parte di Carlo Romano dei coraggiosi di Gela. Il PD cittadino, che pensa in merito escluso chi comunque è d'accordo a priori, le segreterie provinciali e regionali del PD impegnate con i banchetti, potrebbero chiarire alla cittadinanza qual è il progetto di Eni per il territorio, leggiamo ancora nel documento, quando le segreterie dei partiti si autoescludono da queste dinamiche, attestano la loro assoluta inutilità politica, nelle scelte che dovrebbero invece determinare il rilancio occupazionale, ridando dignità al nostro territorio. Silenzio assordante, conclude la nota a firma di Carlo Romano. Approfondimenti, interviste di quanto stabilito ieri nel corso dell'incontro della presentazione della nuova Green Rai Fanery di Gela saranno al centro della puntata della trasmissione Agora, condotta da Franco Gallo, che andrà in onda domani alle ore 21. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, si svolgerà sabato 11 giugno presso la parrocchia di San Sebastiano Martire di Gela e il giubileo degli ammalati, dei disabili e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio diocesano. Per l'occasione sarà esposta l'originale immagine della graziosa vergine degli ammalati che ha dato inizio alla devozione della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa dei Cappuccini di Gela. Il raduno delle varie associazioni di volontariato, evento che accade per la prima volta nella diocesi, inizierà alle 17.30 presso la Scuola Fuentes, dove le associazioni, ognuno con i propri labari e divise, accoglieranno l'icona della Madonna e il Vescovo. Seguirà il pellegrinaggio giubilare che si concluderà nella parrocchia di San Sebastiano. Dopo alcune testimonianze di fede, Monsignor Rosario Gisana presiderà la solenne celebrazione eucaristica. Cerimonia di premiazione del 26esimo premio nazionale Gorgone d'Oro, promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. Si terrà sabato 11 giugno alle 18.30 al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Saranno premiati assieme i vincitori del concorso di poesia Roberto Tufano, studioso dell'illuminismo europeo Università di Catania, Giuseppe Curgiullo, direttore biblioteca OFM Cappuccini di Siracusa, Vincenzo Pirrotta della Fondazione Inda di Siracusa, l'attore Enrico Guarneri Litterio e il giornalista del TG5 Carmelo Sardo. L'ingresso è libero. Natale Salucci, per domani avete organizzato un evento artistico con la collaborazione di chi e a quale scopo? Sono diversi artisti gelesi che hanno sposato la causa dell'Associazione Orizzonte per la giornata, la serata in questo caso, dove presenteremo gli atleti che andranno a disputare i play games in Basilicata. Saranno circa 30 gli atleti che parteciperanno nella manifestazione di Basilicata, nella disciplina del nuoto, dell'atletica leggera e delle bocce. In quell'occasione siamo contenti di un'intesa collaborazione con Club La Vela che hanno messo a disposizione le loro strutture per continuare anche gli allenamenti in estate e anche perché a luglio abbiamo una manifestazione nazionale di tennis a tavolo e quindi alleneremo i ragazzi nella loro struttura. Per voi è molto importante che questi atleti innanzitutto acquistino e conquistino la loro indipendenza. Avete nuovi atleti, nuovi ragazzi che partiranno da soli per la prima volta? Sì, questo è un programma graduale che noi applichiamo con i nostri atleti e sono diversi gli atleti non solo di Gela ma anche abbiamo alcuni atleti di Vittoria che partono con noi senza i genitori. I genitori quando vogliono partire vengono come spettatori. I ragazzi vengono gestiti interamente dall'associazione proprio per rompere quegli schemi, quel cordone ombedicale che purtroppo anche da adulti si tenta a mantenere soprattutto da parte dei genitori che dai figli. In bocca al lupo per le nuove avventure sportive e soprattutto per quest'estate. Grazie e speriamo che è anche la sensibilità per cui tra l'altro noi stiamo facendo questa manifestazione oltre che per presentare, far conoscere, interagire con la nostra realtà, anche una raccolta fonte per acquistare un defibrillatore importante soprattutto per i nostri atleti che sperando che mai ci fosse necessità di un intervento di qualsiasi genere. Argento per l'atleta gelese Kimberly Scudera dell'Arco Club Aias Gela al campo Filippo Raciti dell'Arceri Padovani per il 29esimo campionato italiano targa para-arceri che anticipa l'appuntamento clou del quadriennio dei giochi paralimpici di Rio de Janeiro che vedranno nove italiani qualificati impegnati al Sambodromo di Rio dal 9 al 16 settembre. Kimberly Scudera conquista il secondo gradino del podio e porta a casa la soddisfazione di aver battuto in semifinale per 6 a 4 la vice campionessa paralimpica Elisabetta Migino Fiamme Azzurre. Kimberly ottiene anche la medaglia d'argento nella categoria juniores femminile. Quindicesima posizione invece per Isidoro Scolaro nella categoria senior maschile eliminato purtroppo agli ottavi per gli individuali. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico Salvatore Mussoni Penso che i nostri atleti abbiano dato il massimo conquistando ben due finali per loro mancando di un soffio ma sapevamo già come anticipato alla vigilia che gli avversari non avrebbero regalato nulla in particolar modo nell'anno paralimpico. Tra tutti questi impegni sportivi l'arcera gelese cercherà di centrare adesso l'altro grande ambito obiettivo il diploma di maturità. È previsto per domani alle 20.30 al Palacossiga di Gela il saggio spettacolo promosso dalla Gymnastics Club diretta da Walter Miciche. Lo spettacolo inizierà con una coreografia dedicata all'amore delle mamme verso i figli e terminerà con una coreografia sulla caduta del muro di Berlino. Il messaggio di quest'anno dedicato ai ginnasti è trovarsi insieme un inizio restare insieme un progresso, lavorare insieme un successo. Tornano da questa sera le attività ricreative all'interno della corte del Teatro Eschilo di Gela. Sentiamo. Tornano questa sera alle 21.30 le attività presso l'Eschilo Lab. Teatro, musica, cinema, arte, mostre, sport, incontri letterari e cooking show attendo nel pubblico nella corte del Teatro di Gela di Piazza Salandra con ingresso gratuito. C'è un aspetto interessante che non è avvenuto negli altri anni ed è quello di dare valore e visibilità agli artisti locali che ne abbiamo tantissimi e di alto livello. Devono solo esibirsi, farsi conoscere e inizierà questo tipo di approccio che veramente mi piace moltissimo che l'abbiano pensato. durerà sino a metà di settembre questo tipo di approccio e dopo riprenderà con artisti conosciuti in ambito nazionale. È possibile che chiunque ancora possa proporsi per dare il suo contributo e farsi conoscere alla città. La corte del Teatro Eschilo verrà aperto al pubblico che potrà passare delle piacevoli serate estive ma non sarà solo musica, sarà anche mostre, cultura, sport. Saranno soprattutto gli artisti locali ad esibirsi che potranno così avere la possibilità di farsi conoscere dal pubblico gelese e c'è spazio ancora per altri gruppi, per solisti che vorrebbero partecipare a queste serate. Iniziamo già con un nome di fama internazionale forse noi non lo conosciamo, Aldo Nove, è lo pseudonimo e con un libro che è stato pubblicato proprio il 12 maggio è un tipo di letteratura che forse noi non conosciamo a cui non siamo abituati ma è un libro che veramente fa molto riflettere Per rappresentarlo sarà Viviana Altamore e ci saranno letture da parte di Maria Carla Aldisio e si proseguirà il 17 con camicette bianche di Ester Rizzo un altro tema molto importante il tema dell'emigrazione italiana in America e poi il mese di giugno ancora avremo il 24 Enzo Russo il grande scrittore Enzo Russo con incomprensibile Sicilia e ne chiuderemo non venerdì ma giovedì per motivi tecnici con la presentazione del libro di due nostri ragazzi per me sono ragazzi e Lorena Scimera e Andrea Cassisi a cui auguro di diventare famosi magari quasi come Camilleri ma il nome di Camilleri già ha fatto sì che questo libro sia la ribalta nazionale spero soprattutto che questa possibilità sia colta dai ragazzi, dai giovani non si dica poi qui a Gela non c'è niente perché questi incontri letterari sono quelli che avvengono in tutte le città d'Italia e nel mondo che ne approfittino la famosa tragedia di Eschilo 7 contro Tebe rivisitata in chiave moderna sarà in scena al Teatro Eschilo di Gela domenica 12 giugno prossimo alle 19 saranno i corsisti della scuola di formazione dello stesso teatro a rappresentarla diretti dal regista Francesco Longo che ha curato con genialità, particolarità e impegno questo saggio finale la scuola sperimentale avviata a ottobre ha visto la partecipazione di 14 corsisti che hanno potuto assistere alle lezioni di teoria e pratica valendosi della bravura di illustri nomi come Tuccio Musumeci, Romano Bernardi, Guia Aielo, Emanuela Muni e ancora del produttore teatrale Orazio Turrisi e l'attrice Maria Carla Aldisio che ha curato la dizione Teatro Sotto le Stelle all'antidoto di Gela tutti gli spettacoli si terranno all'aperto si comincerà venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso è di 5 euro a coppia prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta bene è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che Canale 10 è dotato anche di un altro strumento molto importante che è il televideo costantemente aggiornato grazie per averci seguito fin qui arrivederci grazie per averci seguito fin qui